Fino ad ora, la situazione è stata segnata da temperature che si sono innalzate decisamente sopra la media. La gente si è riversata al mare o ha goduto delle splendide giornate di sole. Pare quasi che l'estate non voglia abbandonarci, nonostante gli esperti siano intervenuti. E ora, alla luce degli ultimissimi aggiornamenti, si prospettano delle novità che si preannunciano drammatiche. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa succederà tra poco, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Sì, sembra che tra poco la situazione subirà un drusco cambiamento. Dovremo mettere via i costumi e riprendere dagli armadi i giubbotti. Tuttavia, va detto che l'Italia non ha ancora terminato di sperimentare la sua estate fuori stagione. Nel corso della prossima settimana, assisteremo a un nuovo innalzamento delle temperature a causa dell'anticiclone africano. Occorrerà pazientare prima dell'arrivo del maltempo autunnale. Quanto ancora dovremo aspettare? Forse 10 o 15 giorni. Ma per due settimane ancora non ci saranno novità. Il bel tempo regnerà al nord, al centro e al sud, ma sarà il meridione a presentare le temperature più alte, con termometri che saliranno alle stelle. E in ogni caso, sarà l'alta pressione africana a dominare la penisola. Ma in realtà, già da oggi, martedì 10, ci saranno lievi cali al centro. Fino a domenica, avremo dai 3 ai 6 gradi in più rispetto a questo stesso periodo lo scorso anno. Ma dopo il 20 ottobre, gli effetti di una saccatura atlantica con un asse tra Islanda e Scandinavia si faranno sentire. Porteranno una forte perturbazione, anche se colpirà gradualmente il nostro paese. Il maltempo interesserà il nord tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre, con piogge abbondanti e fenomeni temporaleschi in arrivo. Assisteremo a un calo drastico delle temperature, anche di 10 o 12 gradi, che potrebbe mettere a repentaglio la salute dei soggetti più a rischio. Ma l'imprevedibilità è dietro l'angolo, quindi non ci resta che attendere con ansia aggiornamenti ancora più certi che arriveranno nei prossimi giorni. La tempesta si avvicina, e dobbiamo prepararci all'inaspettato. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto. Grazie per aver guardato il video.